Il vecchio e il nuovo depuratore di Margherita di Savoia, il primo ormai in disuso anche se non ancora smantellato, il secondo oggetto di interventi di potenziamento che avrà, quando verrà completato, una potenzialità corrispondente ad una popolazione vicina alle 24.000 unità, così come previsto nel progetto definitivo. Un investimento, grazie al Fondo per lo Sviluppo e l'Acquesione, previsto dal programma regionale di poco inferiore e 2 milioni di euro per potenziare l'attuale depuratore di Margherita di Savoia, dimensionato su una popolazione di 19.800 abitanti e spesso in affanno quando si registrano eventi meteorologici di eccezionale portata. E' uno degli interventi di riqualificazione ambientale sui quali sta lavorando l'amministrazione comunale di Margherita di Savoia dopo quello portato a termine della bonifica dell'area ex Saibi. Nel progetto definitivo di potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque è prevista la demolizione dei vecchi manufatti, la costruzione di nuovi e la sostituzione o l'aggiunta di apparecchiature elettromeccaniche. Tra le novità c'è quella dell'installazione di un pluviometro per il monitoraggio degli eventi meteorici. La stazione pluviometrica consentirà la rilevazione dei dati pluviometrici e sarà interfacciato con l'impianto di depurazione. Un SMS informerà ogni 5 minuti il responsabile dell'impianto di depurazione sulla quantità di pioggia e sull'intensità della stessa e i dati saranno verificabili in tempo reale su una pagina web dedicata. Storia diversa è quella del vecchio depuratore, ormai dismesso da 30 anni ma in attesa di eventuale demolizione. Un segno dei tempi ma anche un pugno nello stomaco a due passi dal mare in una zona semicentrale del paese.